Vuoi mettere il mostro in prima pagina? Vuoi procurare un linciaggio? No, niente linciaggio. Sul palco del Teatro Sanzio lo spettacolo I ragazzi del massacro, tratto dall'omonimo romanzo di Scerbanenco e messo in scena dal regista Paolo Trotti. La storia, ambientata nei disordini del 68, racconta di 11 studenti accusati dell'omicidio e dello stupro della loro maestra. In che modo si lega l'attualità a questo spettacolo? Si lega nella mancanza, all'ora come oggi, di qualcuno che si occupi dei ragazzi delle periferie, ovvero tutto il lavoro sociale sulle periferie viene lasciato a dei volontari. È un luogo dove lo Stato non interviene e abbiamo provato a guardare la loro parabola di caduta, la loro discesa verso l'inferno. E l'inferno in questo caso era questa scuola serale della periferia di Milano. Gli attori sul palco spostano luci e trasformano la scena a loro piacimento, in uno spettacolo che punta i riflettori su giovani vite lasciate ai margini, dove i colpevoli si scoprono vittime.